La tradizionale fiera storica del 14 e 15 aprile si avvia in questo weekend sant'agatesi all'insegna del clima primaverile. Si ripetono come di consuetudine le rituali code in entrata e in uscita sulle principali vie di accesso alla zona del lungomare, invasa già di buon mattino da numerosi visitatori, provenienti da tutto l'Interland, che non rinunciano alla consueta passeggiata tra le bancarelle, a caccia di fari o per lo shopping di stagione. Esposto sui banchi, sempre ricchi di colore, ogni tipo di prodotto, dagli abiti alle scarpe, da prodotti arredi per la casa, quelli per la cura della persona, dal prodotto enogastronomico tipico alle novità esotiche. L'atteso appuntamento, che richiama ogni anno numerosi commercianti acquirenti, inizia comunque sotto tono rispetto allo scorso anno, nonostante il bel tempo. Si è aperta la mattinata? Un po' fredda. C'è poca gente o c'è? La mattina rispetto agli altri anni si è poca gente. Da dove viene? Da Barcellona. Tutti gli anni qui? Sì. Tutti gli anni qui anche perché io ero un operatore. Come trova la fiera? C'è movimento rispetto agli altri anni oppure c'è meno gente? Diciamo che è ancora prematuro per vedere un po' come va la fiera. Devo aspettare almeno domani mattina per vedere qualcosa oggi. Siamo presenti anche quest'anno in questa famosa fiera di Sant'Agata che ogni anno si ripete. La mattinata si vede che è una mattinata bella, il tempo è abbastanza favorevole. Adesso speriamo che le persone scendano e che veramente possano comprare perché stiamo attraversando un momento veramente di crisi dove si sente veramente questa crisi. Speriamo bene che tutto vada per il verso giusto e che possa finire alla fine una fiera abbastanza buona. Noi veniamo da Fiumefreddo di Sicilia, provincia di Catania. I chilometri sono tanti? Sono tantissimi. Le spese sono pochissime, però le spese sono tantissime, dottoressa. Come si sta muovendo la mattinata? C'è gente oppure no? Non c'è gente perché poi non vada un po' di pubblicità per noi con questa televisione. No. 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 No.